Ciao a tutti da Saludatore, grandissima sorpresa, eccomi qui con la bravissima Bebe Vio. Ciao Bebe. Ciao, saluto. Salutiamo tutti i tuoi fan? Salutiamo tutti, tutti quanti. Ecco qua, sullo speciale, come fare? Ti senti proprio forte? Un saluto speciale alla mia squadra, sono le persone che tengo in mente nella squadra. Ecco, la squadra che portiamo è, che squadra è? Fioretto femminile. Fioretto femminile e una sorpresa che ti dà a conto a non ti ho dato, la manina del saluto a te. La manina del saluto a te. Eccola qua, grazie, ciao.